...e non arretto. Non si ha ancora un piano preciso. Si sa che il paese poco verrà salvato e questo scenario, lo stesso da tre mesi, cambierà. I mezzi lavorano senza sosta, qui tutto dovrà essere pronto per mercoledì, quando la cancelliera tedesca Angela Merkel arriverà a un paese. Ormai è il primo luogo che la Merkel ha chiesto di visitare. Sarà qui con noi, verrà nelle tende, verrà nella mensa, almeno così ci ha promesso. Speriamo che queste promesse mandengono. Sapete già gli aiuti.